La cultura avariopinta, le tradizioni millenarie e le sonorità dei 68 popoli indigeni presenti in Messico hanno animato la messa che Papa Francesco ha celebrato presso il centro sportivo municipale di San Cristobal de las Casas subito dopo essere atterrato a Tuxla Gutierrez, città capoluogo dello stato del Chiapas, il più meridionale del paese. La celebrazione, dopo l'autorizzazione del pontefice all'uso delle lingue indigene nella liturgia, è stata fatta in spagnolo e negli idiomi Zetal, Chol e Tsozil, derivanti dalla cultura maia. Papa Bergoglio ha reso omaggio nel corso dell'Omelia a questi popoli, riconoscendo con grande rammarico che molte volte, in modo sistematico e strutturale, sono stati incompresi ed esclusi dalla società. Alcuni hanno considerato inferiori i loro valori, la loro cultura e le loro tradizioni, altri, ammalati dal potere, dal denaro e dalle leggi del mercato, li hanno spogliati delle loro terre o hanno realizzato opere che le inquinavano. Dinanzi a un passato doloroso e a un presente ancora non sempre facile, Papa Bergoglio ha sollecitato un esame di coscienza che ci insegna a chiedere perdono e ad apprendere quanto i popoli indigeni hanno da insegnarci, specialmente nel rispetto della natura, fonte di nutrimento, casa comune e altare del condividere umano. Non possiamo più far finta di niente, ha insistito di fronte a una delle maggiori crisi ambientali della storia, dinanzi ai sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell'acqua, nell'aria e negli esseri viventi. In un mondo spogliato dalla cultura dello scarto, omogeneo, che ha perso il valore della gratuità, ha concluso il Pontefice, non lasciamoci anestetizzare l'anima e non permettiamo che l'oppressione, il maltrattamento e la degradazione siano la moneta corrente. Grazie a tutti.